La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Un'altra eccellenza dell'anno, innovazione, consulenza, soluzioni informatiche. The winner is Microsoft software and services. Eccoli, per essere un'eccellenza italiana, leader nella consulenza delle soluzioni informatiche, in particolare per essere una realtà imprenditoriale di successo, che ha saputo puntare sull'innovazione, basando la competitività sul più alto livello qualitativo, sull'affidabilità e sulla tecnologia, caratteristiche distintive dei propri servizi. Microsoft software and services, eccellenza dell'anno, innovazione, consulenza, soluzioni informatiche. Complimenti a voi. Siamo in compagnia di Gianluca Todini, vicepresidente di Microsoft software e product manager del gruppo. Benvenuto. Grazie. Quali sono i fattori chiave del successo di Micra che l'hanno portata ad essere leader nel settore di riferimento? Senz'altro uno dei fattori determinanti e decisivi del successo di Micra è quella una capacità di sapere ascoltare le esigenze dei partner che si rivolgono a noi, in primis per capire le loro reali necessità e poi per proporre delle soluzioni tailor-made in uno spirito di continua collaborazione. Accanto a questo, a questa capacità, ci sono anche le competenze tecniche che sono sempre aggiornate e rinforzate, partecipando a continui seminari e continui corsi di formazione. Non da ultimo poi il fatto che Micra è confluita nel gruppo SIDEMA e questo ci dà, felicemente confluita nel gruppo SIDEMA, e questo ci dà forza e ci dà anche lo standing per continuare a proporre le nostre soluzioni a una platea sempre più vasta. Ecco, e quali sono i prodotti di Micra che l'hanno portata a questo successo? I tool di Micra che hanno accompagnato questa crescita sicuramente sono quelli relativi al mondo legal operation, al mondo compliance, al mondo advisory e credit monitoring, dove questi tool, ancorché possono essere rilasciati in maniera modulare, se attivati nel loro insieme costituiscono un ecosistema digitale completo al servizio del General Council, del DPO e del Credit Risk Manager, perché possa davvero supportare in maniera completa l'intero business dell'azienda. Ecco, le chiedo su cosa avete intenzione di investire e anche, diciamo, il percorso che avete intenzione di intraprendere per mantenervi leader in questo mercato. Gli altri valori del gruppo SIDEMA sicuramente sono quelli di una curiosità, quella di voler sempre apprendere e stare aggiornati nelle tecnologie e questo lo facciamo anche tramite la partecipazione, la collaborazione con le università, con summit internazionali che ci rendono capaci di programmare gli investimenti per la nostra area ricerca e sviluppo, che è un'area è la nostra fiora all'occhiello, dove i nostri colleghi, noi stessi, cerchiamo di capire quelle che sono le nuove tecnologie, come possano essere attuate e utili a efficientare ancora e di più il lavoro dei nostri utenti.